Il 24 settembre debutta ad ADN Kronos Museum la mostra di Tommaso Lepera dedicata al teatro contemporaneo. Ci puoi spiegare meglio di cosa si tratta? Si tratta di una serie di fotografie molto particolari che non rispecchiano essenzialmente lo spettacolo teatrale vero e proprio, ma va al di là. Sono fotografie non iconografiche ma è un modo molto personale di interpretare lo spettacolo. Saranno 20 fotografie di 20 spettacoli diversi che vanno da spettacoli di Giancarlo Seipe per esempio al Maestro Carriglio oppure a Leo de Berardinis e altri. Saranno completamente diverse dalle solite fotografie teatrali perché non si prefiggono di illustrare esattamente lo spettacolo teatrale come avviene sul palcoscenico ma viene presentato in un modo molto personale e particolare. Meno iconografiche e appunto completamente diverse da come fotografo. Una realtà assoluta e molto personale.